In questo video desidero mostrarvi come utilizzare gli stati oggetto per creare un cambio lingua all'interno di un progetto di editoria digitale. Vediamo il risultato finale che vogliamo ottenere con quest'anteprima. Qui a sinistra c'è un testo con una bandiera, quando l'utente cliccherà sulla bandiera inglese potrà leggere il testo in inglese e quando starà leggendo il testo in inglese si visualizzerà la bandiera italiana e l'utente cliccando potrà o toccando sul device potrà passare alla lingua italiana, quindi semplicemente al tocco cambieremo il testo all'interno della visualizzazione del nostro progetto. Vediamo cosa dobbiamo procurarci, che cosa dobbiamo realizzare per poter effettuare questo tipo di operazione. Prima di tutto prepariamo due bandierine, una con la bandiera italiana e una con la bandiera inglese e raggruppiamo la bandiera al box che contiene la lingua desiderata. Io qui ho simulato con del testo finto con il titolo inglese italiano le due lingue. Raggruppo quindi il testo inglese con la bandierina italiana e viceversa la bandierina inglese con il testo italiano e vado a collocare questi due box di testo esattamente in corrispondenza uno dell'altro come abbiamo fatto finora per realizzare degli stati oggetto. A questo punto creiamo un nuovo stato oggetto, nuovo stato e gli diamo un nome, chiamiamolo lingue. Come detto precedentemente se volete aiutarvi potete dare un nome alle vostre miniature, per esempio il testo inglese lo chiamiamo english e il testo italiano ita, così abbiamo i due stati oggetto che hanno anche un nome di riferimento in modo che dalla miniatura che è troppo piccola non si rischi di prendere lo stato sbagliato. In questo caso è indifferente perché gli stati sono solamente due. Ora il pulsante che dovrà far andare semplicemente dallo stato italiano allo stato inglese è sufficiente che sia un elemento grafico trasparente, quindi realizzo un box con lo strumento cornice rettangolare e a questo boxer trasparente vado a dare un'azione con la finestra dei pulsanti. Quindi il mio pulsantino dovrà semplicemente andare allo stato oggetto che adesso chiamiamo lingue new, perché sul nostro foglio è già presente un altro stato con delle lingue, non vorrei che si confondessero, quindi il nostro stato lo chiamiamo lingue new e questo pulsante non dovrà fare altro che andare allo stato successivo o allo stato precedente di questo stato lingue new, per cui prendiamo il nostro elemento grafico trasparente che è il rettangolo e dalle azioni dei pulsanti associamo l'azione di andare allo stato successivo. Lo stato successivo non è altro che uno dei due stati dello stato lingue new, che è il secondo che abbiamo realizzato, e siccome le lingue sono solo due, schiacciando più volte il pulsante si passerà dallo stato 1 allo stato 2 dello stesso stato oggetto e quindi si passerà dall'italiano all'inglese. Tutto qua molto semplice ed efficace. Vediamo l'anteprima nella nostra finestra di anteprima interattività ePub. Schiacciamo il pulsante e viene mostrato lo stato oggetto inglese. Schiacciamo il pulsante italiano. Siccome gli stati sono solo due, il pulsante non fa altro che andare allo stato successivo, allo stato successivo, allo stato successivo. Ecco che il trucco è veramente facilissimo da realizzare e avete in questo modo la possibilità di avere due lingue all'interno del vostro ePub interattivo. Facile vero? Grazie.